inizio dal sughetto si ora aspetta ora prima si fa entra un po di gente tanto vieni qua guarda la buonasera a tutti buonasera a tutti allora stasera niente bimbi niente cucina solo lei io sto lì a sedere e non fa niente che cosa fai stasera anna l'impasto con i tortelli con l'impasto di patate che lo fanno nel casentino l'ha imparato nel casentino va bene ora io mi sposto ti lascio sola va bene e poi si fa anche la sfoglia si fanno vedere questi tortelli come le fai perfetto come ti chiami tanto guarda la anna perfetto allora vediamo un po buonasera buonasera signora anna te lo dice mami buonasera te lo dice orazio e insomma allora vediamo vediamo simus ti dice anna e ti manda un cuore grazie simus grazie simus hai visto allora piano piano ci si arriva allora vediamo un po vediamo un po intanto specchiamo perché io mi scordo sempre di fare questa cosa che è più bella così vedi almeno si vede la scritta bene si vede il caffè viene su allora anna intanto viene sul caffè allora io vi faccio vedere una cosa no perché voi non ci credete ma io io la sera anna mi fa il caffè con la moca vedete io mi prendo la moca la sera allora anna allora partiamo dalla base noi per esigenze no di tv televisive abbiamo già fatto un trito giusto che ci abbiamo messo ci abbiamo messo la pancetta la pancetta però guardate la pancetta ora io se mi ri mi orizzonto come della fettano tanto si si siccome va frullata è fina la pancetta ci mette la pancetta poi ci metti prezzemolo prezzemolo la marca anzi fa vedere e l'aglio uno spicchino d'aglio e un pochino di di prezzemolo di prezzemolo che viene fuori questo impasto qui questo impasto qui anna poi come viene ora bisogna metterla al fuoco si mette al fuoco e si fa il ciughetto perfetto intanto te fai schiacci le patate sì perfetto allora l'olio non ce lo mettiamo perché come ha detto anna c'è già il grasso della ventresca lo facciamo andare piano piano va bene che prendi l'insalaterina ecco allora se no si sparisce tutte e due se no le mettevo nella schiamatura allora si si guarda il problema è che ora per guardare la non sono preparato mi dovete scusare allora allora si arriva è stasera stasera siamo un po vediamo un po vediamo un po allora allora vediamo vediamo allora vediamo un po qua se si riesce allora un secondo è hai la tuta grigia allora si si guardo whatsapp buonasera Anna dove sei sparita vai la eccomi allora la intanto abbiamo messo a fuoco abbiamo messo il il sughino fatto con la ventresca il prezzemolo uno spicchio d'aglio e che ci si è messo la pimenta allora hai la tuta grigia si 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 ho la tuta grigia allora vediamo un attimino intanto stasera c'è una novità c'è una novità che scusate intanto io faccio un'altra cosa qui perché purtroppo non ero preparato a questo si dovrebbe collegare anche mia cognata ed è timida quindi se vi capita allora allora stasera c'è una novità c'è un nuovo gruppo di moderatori nuovo gruppo di moderatori col con l'agenzia abbiamo deciso di fare questo cambiamento e se non so ora io sto cercando di collegarmi dove mi hanno chiesto buonasera 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 vuoi un attimino eh un attimino arriviamo eh allora vediamo se me lo fa fare vediamo un po' vai Anna allora racconta che cosa sta facendo ora ora messo le patate messe nello schiacciapatate che ce la fai sennò vengo io eh perché ora è un po' che sono fatte queste patate allora intanto buonasera scusate eh ma ci vuole un attimo perché non ero preparato ad attivare altre ammennicoli allora vediamo un po' se riesco a sistemare tutto allora diciamo guardiamo se ci sono nonna Anna è adorabile se ce la fai bene se non vengo io eh si si per ora si allora allora eh no ormai ci sono ah ecco eh come no si si non so con quale ma sei si 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 eh io io non so quale hai capito con qualcuno si ora io eh io stamattina ho cercato di fare allora Anna è tosta Gagliarda eh con qualcuno si eh eh mami sai te quale eh non ho messo uno ma non so quale allora buonasera Jane buonasera Paola ti stanno salutando Anna buonasera Paola buonasera Jane come Jane 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 allora guardate sta schiacciando le patate allora eh intanto io eh cerco di torno subito eh ho scritto eh su su whatsapp allora intanto torno qui che no si fa un casino quanto deve rosolare un po' eh eh si sarà sciolto ma non credo va bene va bene te ogni tanto se io il fuoco l'ho messo basso basso si si allora io sto facendo questa cosa qui poi intanto non so se si può dire che prendo il caffè ma si dice si dirà oh io lo prendo perché senza caffè non dormo la sera pensate un po' come son messo allora io c'era una volta c'avevo una moglie che è scappata ora con uno non so dov'è la mia moglie dov'è la mia moglie eh allora posso prendere il caffè ho scritto mami mami ti ho scritto non ho capito ciao caro ti saluta oh ciao pipistrello ma che bello guarda ciao pipistrello ah fatto perfetto no no dormo dormo perfetto io comunque ci so eh qui eh io mami abbi pazienza ho sbagliato allora allora la pancetta vi faccio rivedere un attimo la pancetta la pancetta abbiamo utilizzato in questo modo qui tanto eh diciamo molto fina fine è un piacere ma Michele guarda ti avevo chiamato tempo fa o hai cambiato numero oppure boh non mai risposto perché ti sto antipatico vedete è molto fine buonasera buonasera allora no non posso far vedere le marche poi ci abbiamo delle uova quante uova fa anche la sfoglia eh stasera in diretta stasera eh fa la sfoglia in diretta quindi fa l'impasto e la sfoglia per i tortelli tre uova tre uova allora aspettate arrivo eh com'è lì la situazione eh vai vai ci sto io qui vai 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 Anna devo starci attento se no si brucia eh si brucia ma l'hai alzato però troppo il fuoco ma no così si fa prima eh ho capito ma io lì si chida fuoco eh ma ora poi c'è da mettere la salsa deve bollire ah c'è da metterci la salsa eh eh ma fra quanto ci si mette la salsa eh ora quando è rosolato un pochino va bene io ogni tanto mi assento ma so qui eh però la 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 passata è qua va sta lì si fai la intanto fa la sfoglia giusto? eh si allora intanto prepara la sfoglia eh eccomi qua sono tornato eh Jane meravigliosa e io le ho cambiato il cell ma il numero è sempre quello perfetto allora ti richiamo eh Michele mi dispiace abbiamo e qui ce n'è poca si prende quella giù si c'è dell'altro baratto lì l'allungo con un pochino d'acqua questa così almeno si si no questa non l'allungo per niente questa non si allunga per niente ah vai allora ah allora vediamo un po' qui sta rosolando ora ora vengo a legge eh allora qui c'è la passata di pomodoro che serve anche per il se ci sono dei messaggi eh mettetemi lì in evidenza eh che io sto sto dietro al al rosolare la l'impasto allora dove sei andati a forse va bene così Anna ora ti guardo si si ora si fa rosolare un po' e poi ci si mette la testa non basta così eh si vai ci butto la cosa si quanta abbasso abbasso perché sennò qui ci metto anche un pochino d'acqua no no se no poi deve deve tirare troppo ci vuole troppo tempo va bene allora ora lo lasciamo andare un pochino così si allora ora abbiamo messo la eh la salsa eh dopo tu rigoverni eh no no Alessio ciao Alessio buonasera che bello vederti no io cocci non so buono a ricovernarli io le le butto le rompo i cocci allora la misocera sta facendo la sfoglia che cosa faccio ora guardate eh vi fa vedere una cosa ve la fa vedere per bene ah ruoto la telecamera scusate eh gira la foglia così in modo che ha fatto il buchetto nel mezzo alla farina solo uova vero? si ce lo metti in gocciolino d'olio? si l'hai già messo? no ah allora intanto si guarda come fa buonasera Redmond buonasera a tutti allora eh si sta preparando la sfoglia perché andremo a fare vi faccio vedere questo è una parte è la parte diciamo del eh sugo con cui verrà fatto il ripieno dei tortelli di patate qui al suo interno c'è eh pancetta prezzemolo aglio peperoncino e ora abbiamo messo eh la passata di pomodoro la teniamo al fuoco a fuoco lento perché altrimenti ci brucia tutto ha messo l'olio ha messo l'olio e ora piano piano sta ah e poi qui ci sono le patate che ha schiacciato prima dove ci andrà messo quel sughino che avete visto prima questo qua questo sughino qui questo sughino qui andrà messo eh all'interno delle patate e questo sarà il ripieno dei nostri tortelli tortelli in mare in mano eh attenzione io parlo mare in mano allora ecco Anna quante sfoglie avrai fatto nella tua vita? oh per carità eh che ne so qualche migliaia eh ma che ci vuole a fare una sfoglia? niente niente per chi la fa sì eh ma uno che non riesce riesce eh uno che non riesce non riesce allora la nonnina fa la sfoglia vedete vedete nonna Anna sarà in diretta ogni venerdì alle 21 il prossimo venerdì nonna Anna ora vi la lascio un attimo vi fa vedere una cosa cucinerà farà il ragù con questo farà tutto da sola eh seguirà le istruzioni no no ma fammelo si si fai tutto da sola dimmi te cammino vai no no si fa con quello venerdì prossimo si fa con il bimbi il bimbi nonna Anna 2.0 89 anni e farà il ragù col bimbi allora il sardo buonasera grazie grazie allora ecco qua che nonna allora sposti la farina e ora cominci a tirarla si la tiri prima un po' a mano giusto? no ora la 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 mischio per bene eh ora fa proprio la sfoglia buonasera Beppe ti saluta ah buonasera Beppe allora Beppe è un ragazzo che usa il bimbi come me ah ecco cioè lui è più bravo io so proprio scarso però Beppe è bravo Paola buonasera ti saluta Paola buonasera Paola allora poi il sardo uno si chiama il sardo ti saluti il sardo saluti ecco perfetto lei faceva è di una famiglia di pecorai giusto? portavi le pecore nel 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 coso nel video che troverete su il tubo c'è la sua precedente diretta dove si faceva tagliolini e si faceva la minestra di ceci ti chiede Gianfranco Lanzini che che pasta fai te fai la sfoglia per i per fare tortelli di patate i tortelli di patate il ripieno il ripieno allora io ho qui Anna viene a vedere se ha ritirato abbastanza allora questo è vi ricordo per chi si è collegato adesso è il ragù il diciamo il sughino fatto con basta spengo vai questo è il sughino che andrà a fare il ripieno dei tortelli di patate e queste sono le patate schiacciate nel frattempo che Anna faceva cuocere il 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 coso come si chiama la ventresca il sughetto si può mettere un po' di farina per farlo stringere ancora allora Paola dice sì però a lei gli serve un po' più liquido perché c'è già la patata che assorbirà tutto allora in questo momento noi si fa una preparazione che andrebbe in in due in due momenti diversi vero Anna il sughino lo dovevi aver già fatto e la sfoglia l'avresti fatta diciamo però per esigenze di diretta Anna lo fa in diretta con voi quindi ha fatto il sughino e ora eh diciamo eh sta si deve fare l'impasto questa patata con questo sughino la lasciamo raffreddare un pochino ora no allora guardate abbiamo stoppato la sfoglia e ora andiamo ecco quello che fa Anna io vi inquadro anche lei così e magari è più bella di me eh allora sì sì allora buonasera buonasera allora vediamo un attimino le voci si sentono bene le voci si sentono bene di tutte e due sì dicevo che ci sono i nuovi moderatori belle le pentole ah ce l'avevi anche te eh Gianfranco ah le hai vendute eh io l'ho comprata da un ragazzo qui di Batignano allora sì si sente si sente bene sì grazie grazie Beppe per i like eh io mi fa piacere che eh queste sono ricordi che eh sono tradizioni che eh grazie a questa tecnologia secondo me eh eh rimarranno per sempre no? perché alla fine eh cioè chi ce le farà i tortelli di patate? uno va a vedere la live di nonna Anna e troverà eh diciamo questo allora Alessandro c'è il nutrizionista Anna quello che fa che prepara le diete c'è Alessandro ah saluti allora il ripieno come è fatto? Anna spiega come è fatto il ripieno dei tortelli di patate eh adesso la patata fa quel zughetto con la pancetta prezzemolo e uno spicchio d'aglio e un peperoncino e peperoncino poi lo fa un po' rosolare poi ci si mette la salsa di pomodoro si fa bollire un po' e poi si schiaccia le patate con le patate schiacciate e lessate e pronte buonasera Alessandro buonasera allora intanto Anna sta spiegando come ha fatto l'impasto per i tortelli che vi faccio eh questo sarà il ripieno del tortello vero Anna? sì questi sono buoni anche fatti eh burro e salvia o con ragù come meglio farli? come più uno le piace ma la ventresca è questa lei ha usato due uova o tre? quante? due qui due uova allora intanto ok da noi a Mantova tortelli di zucca fanno fanno tortelli di zucca a Mantova ci sono tanti io no non le ho mai fatti eh se no mangia solo lui e noi guardiamo teniamo fermo Bob ha detto se no mangia allora eh grazie grazie dei like siete gentilissimi nonna magari non sa nemmeno ma nonna Anna è la misocera non è la mia nonna eh è la misocera siamo qui a casa sua e ora lei comincerà a dare una forma a questa sfoglia giusto? eh Anna? eh sì eh allora se ci sono delle domande nonna Anna risponde vero nonna Anna? sì sì se vogliono sapere poi c'è Beppe Beppe guarda che nonna Anna venerdì prossimo farà il ragù lei mi spenge sempre le luci io lei mi farà farà il ragù io la seguirò però da sola farà il ragù col bimbi quindi nonna Anna quant'anni hai nonna Anna? 89 89 che ti serve? il mattarello il mattarello vai prendiamo il mattarello io mio di dove siete? di dove siamo Anna? io sono della provincia di Arezzo e e però siamo stiamo a Grosseto nonna ma ora siamo a Grosseto 89 anni allora eccola qua ecco che sta spianando la sfoglia si dice spianare la sfoglia? sì vedete come fa? guardate un attimo è il movimento vedete si aiuta anche con eh l'avambraccio vedete col polso va avanti eh auguroni nonna Anna siete meravigliosi grazie ma fa anche gli gnocchi col sì sì paola sì 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 allora eh gli gnocchi con la ricotta fa anche gli gnocchi con la ricotta come si fanno gli gnocchi con la ricotta Anna? eh invece di mettici le patate ci si mette la ricotta con la farina ricotta, farina un pochino di sale allora eh fissate il dottore scusate eh perché se non mi eh allora vediamo un po' un attimo Orazio fissatemi il dottore dicono che io mi sono perso credo che qui a occhio e croce siamo a 500 chilo calorie eh 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 allora no no ma dottore non è per dargli contro ma si sbaglia questa è proprio leggerissima questa cucina questa legge allora so patate e leggeri allora è vero con la macchina elettrica fatigherebbe meno ma non è la stessa la stessa cosa no no eh eh vedete allora io la ve la faccio vedere perché è molto bello questa questa cosa eh io guardo allora allora Alessandro iovallo sarà eh intervistato da me eh mese prossimo e e quindi eh ma non viene uguale sì è vero effettivamente è vero si vede che è industriale invece la sfoglia presenterà la sfoglia fatta a mano diverse ha più sapore più buona via io e e poi comunque gli spessori sono sono diversi rispetto a quello non vuole essere aiutata no assolutamente non ti prova a mettere le mani eh qui ci vuole uno strappo dal tavolo eh eh allora eh poi allora vi ricordo che settimana prossima giovedì alle ore 21 ci sarà la mia intervista a eh dottor Stefano Verona lo psicologo delle dipendenze eh se avete ragazzi giovani ciao Atena ciao eh se avete ragazzi giovani eh nell'età che sfruttano questi marchi ingegni sarebbe interessante che vi partecipiate eh insieme intanto vi faccio vedere una cosa ecco il mio gatto che dorme con con Bob c'è il mio gatto che dorme con Bob allora eh ciao Maurizio intanto saluto allora vedo vedo Anna fatigoso? no ah quello non è un gatto no è un gatto guarda dottor Stefano eh sì Stefano eh Alessandro è secco è secco anche lui Alessandro anche lui ha dieta è una tigre allora vediamo un po' ancora non ci siamo e questo è l'impasto è sette chili quant'è il gatto? sette? otto chili? no sette disse Leonora sette chili sette chili allora guardate questo è l'impasto ripieno che andrà che andrà all'interno dei tortelli il gatto di patate eh eh ma quanto è? eh è in fase di mossa sì sì è vero sì sì allora vedete guardate eh poi vi si fa vedere anche contro luce ciao ah mi dispiace mi dispiace Monica mi dispiace perché l'ipoglicemia è un problema davvero eh il gatto con gli stivali corre verso il cibo dicono io ho anche un canino ma eh il problema è che questo canino eh è sempre con la sua padroncina piccinina eh se no se no non si vedono ho capito allora aspettate eh io volevo far vedere Olly dov'è Olly? oh Giolli? 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 vieni? ti vogliono vedere Lolli vieni ora vi fa vedere anche Lolli Lolli ti vogliono vedere eccola Lolli saluta Tati vieni qua saluta Tati salutali questo è Lolli Lolli guarda papà ciao diglielo io sono Lolli Lolli borgge e cuolli vero? via ora si va a fare la sfoglia Lolli va bene? ciao piccolino ciao piccolino ciao ciao allora continuiamo il gatto qui si è svegliato Gatto Mau ciao Gatto Mau saluta saluta Gatto Mau ciao diglielo io sono Gatto Mau oh verrà? ecco fa le carezzine vai ciao ciao Gatto Mau allora qui si fa la vecchia fattoria eh meno male dai buonasera a tutti buonasera Nefertiti buonasera allora fare palestra si si mister lo mando da te a fare palestra senza luce oggi se paghi le bollette magari allora intanto a casa di nonna Anna da notare tutti gli oggetti messi sui mobili è vero è vero guardate 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 vedete vedete anche la monster eh lei ne scherza eh anche la monster oggi mi hanno levato la luce anche Nacca t'hanno levato baguette quante uova per questa sfoglia due no questa è di due uova sole due uova sole eh senza acqua senza niente perfetto che bello mi ricorda mia nonna dicono allora qui ti da noia qualcosa no allora spostiamo qui guardiamo qua ecco qua Gatto Mau va a vedere Gatto Mau tanto si fa Gatto Mau ciao Gatto Mau saluta tutti Gatto Mau guarda questo Gatto Mau ciao Gatto Mau eh ecco qua e lui sta lì quando c'è la nonna che lavora lui si mette lì e un si sposta Gatto Mau allora vediamo un po' Nefe ha visto? so più bello io eh del mio gatto però allora vediamo un po' se questa nonna guardate che sfoglia guardate che colore allora Orlando buonasera buonasera allora vediamo vediamo allora meravigliosa guardate che a me a me mi incanta questa cosa io vi devo dire la verità che questa cosa qui due uova ragazzi due due uova allora allora vi ricordo vi ricordo vi ricordo che eh giovedì eh che ho ah perfetto Monica eh vi ricordo che giovedì prossimo alle ore 21 ci sarà il dottor Stefano Verona che parlerà di psicologia delle dipendenze eh iscrivetevi all'evento eh perché è importante per me capire eh se le cose vi interessano o meno perché altrimenti eh diciamo non riesco vedi il mio video con la Clerici ah perfetto perfetto Gianfranco grazie Gianfranco allora eh forte sì sì eh il tema di di giovedì prossimo è veramente interessante eh Monica è mia suocera è mia suocera non è mia mamma da guardate sì sì da un panetto piccolo di pasta guardate cosa sta tirando fuori sono due uova eh ragazzi non è che sono dieci uova sono due uova allora dice Sabri ha 33 anni lei no? è in tempo a imparare a fare la sfoglia? ma voglio bisogna non ci vuole mica un maestro eh due uova un po' di farina eh ma sono i movimenti poi che cambiano eh e per spianarla ma perché la tiri un pochino e poi la ripieghi su se stessa no? eh sì per forza oddio certo e per le prime volte non è facile però la so fa anch'io eh la sfoglia a mano vero? ehm ha detto sì ma la tiri Bob io la tiro col mattarello non te lo ricordi? Bob assaggiatore ufficiale sicuramente il sale ce l'ha messo un pochino nella sfoglia? sì l'ha messo vedi? sale e l'olio sale e l'olio e il gatto ridorme ma oh saluta tutti dai fa un salutino con la zampina su fa un salutino con la zampina dai me lo fa un salutino con la zampina dai 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 vieni no no c'è Bob lì lui dorme con Bob allora tanto non ti piace vero? serve una bella? eh sì 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 bravo bravo Gianfranco bravo ho visto mai seguito nonna Anna il mattarello si può usare anche per rincorrere i mariti? eh eh sì 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 allora allora vediamo un po' vi ricordo se eh vi piace questa questa rubrica eh venerdì prossimo nonna Anna per la prima volta naturalmente seguita da me eh grazie seguita da me cucinerà farà il ragù con questo attrezzo col bimbi quindi avremo una nonna di 89 anni 2.0 ci ci divertiremo perché lei non l'ha mai usato e e ci divertiremo insieme ora controlla ma io la star è la nonna eh ci mancherebbe ma infatti vedi io non mi può riprendere allora eh sarà ha già fatto? sì ora si fa i tortelli ora si fa i tortelli ti ci vuole il taglierino? ce l'hai? sì ci vuole quello perfetto allora una fortetta allora io vi chiedo naturalmente per giovedì anche per giovedì prossimo di di iscrivervi al all'evento a voi non vi costa nulla l'iscrizione a me mi dà la possibilità di capire e di tastare il terreno se quello che sto facendo eh vi può interessare o meno naturalmente eh la mia live è differente live eh io cerco di portare contenuti eh interessanti trattarli nel modo diciamo non troppo serio leggero se ero lì mangiavo i tortelli crudi anche eh guarda ti posso dire che allora guardate allora guardate come fa guardate eh allora io cerco di seguirla ma è svelta come in gatto allora fa la pallina e la mette lì eh ora questo questo è un momento da non perdere eh ragazzi c'è un bellissimo evento iscrivetevi tutti sì per giovedì prossimo sarebbe bello se se vi iscrivi iscrivete al prossimo evento di giovedì perché è veramente molto interessante specialmente chi ha ragazzi adolescenti secondo me è una cosa davvero da e poi anche Alessandro Iovello è un nutrizionista quindi allora guardate eh ripiega la sfoglia la passa vedete così e ora credo che la vada la vai a tagliare la vai a tagliare ah aspetta eh gli fai marciapiede vero Anna sì perché l'ho fatta parecchio dura ah ecco ecco la devo fare un po' più morbida non si bagna con l'acqua no e lei non l'ha mai bagnata con l'acqua ora allora è un incanto guardarla grazie Tina Simus la adoro allora guardate eh ora fa così e poi uno due e svelta c'è la posta lì dietro allora allora aspetta qui allora ciao Nefe Anna quel pezzo chi lo dai quello lì Niam Niam allora viva le donne sì 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 allora guardate eh ripete il passaggio toglie naturalmente grazie 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 allora allora facciamo vedere prende la forchetta vado più vicino eh così si vede meglio non li piega no no rimangono così chiusi si chiudono in questo modo si fa un primo marciapiede si rovescia su se stesso poi si fa un primo marciapiede buonanotte Monica grazie grazie un bacione e tanti auguri per la tua quella quella insomma ma glicemia tipo ravioli sì sì noi si chiamano tortelli di patate allora prima ci passa la forchetta come avete visto io prendo tutta l'autostrada grazie allora che con cosa è fatto il ripieno allora ripetilo Anna Serenella intanto saluta Serenella eh saluti bella Serenella Serenella allora di con cosa è fatto sto ripieno ci ho messo la pancetta un po' di prezzemolo uno spicchino d'aglio e mezza pimentina poi l'ha fatto rosolare poi l'ho fatto rosolare e poi quando è rosolato ci ha messo la salsa di pomodoro una salsa di pomodoro e l'hai fatto lessare le patate l'hai schiacciate le patate e l'hai amalgamate tutto insieme giusto? sì allora in questo momento guardate eh vedete come fa questa è una sfoglia di due uova eh attenzione due uova sono davvero non so se ti sei reso conto ma noi qui siamo tutti a tavola dietro di te grazie Serenella ti dice bravissima grazie te complimento allora guardiamo un po' eh guardiamo un po' ora poi io credo Orazio questo affare qui si possa inquadrare non credo sia qualcosa che non si può inquadrare è una rotella allora vediamo grazie Serenella allora taglia e quello lo scarto a chi si dà lo scarto Anna? eh a Simone a Bob qual è il dolce che ti riesce meglio Anna? che dolce fai? quando eri giovane che dolce ti piaceva fare? e più la pinolata la pinolata allora la cosa bella è che lei stufisce si stufisce dei complimenti eh allora guardate eh due uova eh cioè attenzione ragazzi veramente quanta farina ci sarà andato? due uetti? eh non so perché io non mi ha pesata io favo più cos'è la pinolata? la pinolata è una torta mantovana giusto? si copinoli dentro una torta mantovana noi si chiama pinolata eh allora questa qui no non credo eh non credo MLC non ti saprei dire non ti vorrei dire una una cosa sbagliata allora vediamo un po' vedete? che la cura con cui ogni tortello che non sono mai tutti uguali misure diverse cioè il bello di queste di queste lavorazioni qui è che eh non ce n'è uno uguale all'altro qui riprendiamo il nostro impasto che sicuramente è molto di più di quello che serve giusto Anna? eh per finire sta sfoglia no no ci se ne fa di più quello che serve giusto Anna? per finire sta sfoglia no no ci se ne fa di più ma io ho fatto quello dimmi un po' che ho preparato oggi io per il pranzo di Pasqua eh tutte le salsine eh che salsine ho fatte? la salsa verde la maionese la salsa col tonno eh e basta per ora domani che cosa preparo io? la pasta al forno con gli asparagi ah sì pepistrello scusa eh col nome mi confondo ah 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 abbi pazienza eh perdonami ma sono un po' sono un po' stanco in questi giorni allora intanto vediamo se c'è qualche altro commento qualche allora intanto io vi ringrazio siete tantissimi mi fa piacere eh per la mia suocera che non è mia mamma eh sì però per tutti è nonna Anna non so quanti stanno guardando in questo momento eh però ha diversi nipoti quanti nipoti hai Anna? eh dunque due sui gemellini due di Umberto quattro Chiara cinque Umberto sei l'area sette e la sua bimba otto e Federica e Federica nove nove nipoti e pro nipoti è buona anche bianca fatta con i carciofi sì sì io domani Bob però le devi fare rifornire contenitori sì io domani la faccio con i con gli asparagi anche con i carciofi viene con ha detto mami che anch'io vuole anche lei vuole essere la tua nipote chi? mammi grazie allora tutti le persone che stanno entrando Pipistrello ti saluta Pipistrello grazie Pipistrello Pipistrello ecco perfetto anche Mr. Baguette grazie Mr. Baguette eh come l'ha detto bene Mr. Baguette l'ha detto bene eh poi c'è Sabri senti quanti nipoti c'hai senti qua anche Sabri vuole essere tua nipote va bene grazie ma c'è allora lei non lo sa ma ci ha conquistato a tutti grazie grazie questa pasta di chi è questi pezzettini qui di chi so di Bob sì sono di Bob sì eccoli lì eccoli lì questi le mangia Bob dopo allora anch'io Simus ha detto vuole essere tuo nipote va bene lo aspetta tutti vi fa tortelli di patate a tutti allora ma ve li fa anche con la ricotta eh brava brava ma che hai preparato a Matteo dove l'hai? dove l'ha messa? l'ha in frigo no l'hai sul tuo allora gli si fanno vedere? eh faglielo vedere guardate che ha preparato il mio fratello perché il mio fratello sta a Padova è ghiotto dove l'ha messa? no non so qui su quel cosino giallo verde com'è? no allora l'hai di qua quell'altro frigo ma non mi centravano eh allora la buttate via eh sì allora aspettate eh attacco il telefono un attimo sta qui sta lì sta lì te fai le tue cose allora vediamo un po' eh so qui Anna vedi? ma sono corti allora guardate cosa ha fatto al mio fratello eh che lui è ghiotto come le nane come si dice? ghiotto come le nane? eh sì allora guardate eh ora acciderba a me allora guardate vi faccio vedere cosa ha fatto al mio fratello guardate qua lo sapete cosa sono queste? non gli di niente eh voglio vedere se indovinano pure ci so a vendere allora vediamo se indovinano che cosa sono le faccio anche da più lontano allora vediamo se indovinano cosa sono eh Anna alici bravo Michele cipolla sì no melanzane Orlando alici con la cipolla bravissimi bravissimi allora sono invitati a pranzo ha non dovinato Anna sì sì e io ho fatto invece vi faccio vedere cosa ho preparato io oggi allora tanto si fa un po' di casino ma tanto è uguale allora intanto mettiamo un ciotolo io aspettate eh scusate se parte l'inquadratura allora questi sono per allora queste salse qui le faccio per i piuini allora Viviana c'è Viviana Bazzani saluta Viviana nonna Anna ha saluto Viviana ciao Viviana ciao grazie di essere oddio scusate eh che io sto lavorando con una mano sola allora aspettate eh se no aspettate un attimo attacco il telefono al portatelefono altrimenti fa confusione si si aprono male quelle cose allora allora vediamo un po' ora ho aperto tutti i ciotolini mi serve un cucchiaio arrivo eh allora mi serve un cucchiaio allora vediamo un po' allora allora poi vi spiego eh allora vi spiego subito allora questa è salsa verde spiego subito allora questa è salsa verde aspettate eh questa è salsa verde questa è la maionessa tonnata insomma Viviana Bazzani mi gradisci anche tu un piatto di tortelli sono steppitosi allora allora la la con due uova quanti tortelli abbiamo fatto? eh bisogna contarli Michele eh può darsi ma ce ne sono tante ma sono tutte bellissime guarda sono tutte bellissime io queste live le conserverò eh su youtube le troverete eh e io cercherò di 4 6 8 10 12 18 20 22 24 26 una trentina allora con due uova ha fatto farà 30 30 tortelli di patate con due uova quindi penso Bob ha detto ma mi stefi che ha una dipendenza da nonna Anna dice vuole vedere nonna Anna tutti venerdì sera allora vi comunico che venerdì prossimo alle ore 21 nonna Anna farà il ragù alla bolognese lo farà con questo accessorio qui quindi sarà la nonna di 89 anni la prima nonna di 89 anni che userà il bimbi in diretta quindi eh allora vediamo un po' vediamo un po' nonna nonna Anna qui ti salutano un sacco di 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 cuori ti mandano ciao belli a tutti grazie eh vedi ha già ha già imparato eh la birbonata ha già imparato la birbonata allora qui ti mandano le rose ti mandano guarda guarda c'è Alessandro c'è Alessandro ti ha mandato un cuore ti ha messo un cuore sulla testa c'è Alessandro che è venuto a prendere le cose le verdurine ah è venuta grazie Alessandro allora noi siamo Toscani di Grosseto allora un abbraccio immenso grande grande a nonna tanti cuoricini da Tina grazie Alessandro dice vai Anna va bene ma come ma ha visto come so gentile con lui quando lo manda a casa eh so gentile eh ah oh Orazio ti ha mandato un uovo di Pasqua grazie allora guarda guarda allora questi sono tutti pezzettini che me ne mangio io allora allora vediamo questo pezzettino è mio siamo tutti fuori dalla porta col piattino in mano eh venite guardate allora vedi dopo volentieri ecco allora questa è la salsa tonnata questa è la maionese quella è la salsa verde questo è l'impasto per le patate questo è l'impasto questo sarà il gatto che verrà miau saluta a tutti dai fai un salutino ciao gatto mau lui dorme con Bob vedi mio gatto dorme con Bob guardate nemmeno finito ha detto ti do la mia moglie mandami la nonna ha 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 ci l'ha detto Alessandro no l'ha detto Orlando Orlando ha detto ti do la moglie ha 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 e c'è fatto questi sono i tortelli che ha fatto nonna anna allora ora metti il cucchiaio prendi un tortello con la mano destra un tortello con la mano sinistra le metti così così perfetto e fategli una foto a nonna anna fategli una foto poi me la mandate uno screenshot allora vediamo un po nonna anna cosa si può fare con l'impasto avanzato ma con l'impasto avanzato domani ne fa di più stasera stasera ha fatto un pochini di tortelli ha fatto la prova perché volevi far vedere i live questi ora si mettono nel frigo e domenica si continuano a fare i live questi ora fa domenica per noi questi ora si mettono nel frigo e domenica si fa si continuano a fare altri tortelli di patate allora allora niente noi aspettate giro un attimo il telefono guardate quanti allora vieni più qua no vai più là vai più là eccoci qua allora da nonna anna e le sue live del venerdì sera per stasera vi salutiamo vi ringraziamo di essere stati qui questo video integrale lo troverete diviso a capitoli su il canale rosso sul tubo bob gas tv io vi aspetto giovedì sera alle ore 21 per parlare di psicologia delle dipendenze nonna anna invece la vedrete venerdì prossimo vero nonna va bene alle ore 21 e cucinerà il ragù col bimbi saluta tutti ciao con la mano con la mano ciao a tutti buonanotte auguri di buona pasqua a voi famiglie tutti ciao 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 aspetta allora fammi vedere vi saluto vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi con con me e nonna anna e buona pasqua una serena pasqua a voi tutte le vostre famiglie e cosa dire manteniamo le tradizioni salviamo questi momenti perché saranno irripetibili e indimenticabili una buona notte a tutti da bob gas e da nonna anna dove eccola buona notte e auguri per domenica e per domenica ciao ciao a tutti ciao michele ciao a tutti un abbraccio e grazie tanto ai moderatori moderatori e poi ricorderò nella prossima live perché non sapevo ora vabbè insomma poi ci spiegheremo ciao 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 ovvio